eccoci qua allora buongiorno buongiorno a tutti volevo sapere intanto se si sente la voce quindi questo è fondamentale e stiamo facendo delle prove prove diretta intanto spero che voi mi sentiate intanto vi faccio vedere vi faccio vedere l'ingresso eccolo qua questo è l'ingresso d'italia 5 stelle chiaramente adesso stanno entrando i volontari per la sicurezza e come vedete ancora c'è poca gente insomma ci hanno detto che più o meno intorno alle 10 ci sarà un cominceranno ad arrivare allora mi date solo un feedback sulla sulla qualità dell'audio solo questo mi serve forse non si sente forse non si sente possibile si sente fatemi sapere pronto pronto è buono a fantastico grazie lello bene ero un po preoccupato perché ho detto magari non sentono neanche la domanda va bene allora niente benvenuti ragazzi allora sono in questo momento le 8 e 26 del mattino di sabato sabato 23 23 settembre e insomma siamo qui davanti a italia 5 stelle vedete il cartello benvenuti a italia 5 stelle chiaramente questa è la ripresa da fuori cancelli ci sono i volontari che si stanno preparando e insomma c'è già un po di gente qui che sta aspettando l'apertura dei cancelli che dovrebbe avvenire intorno alle 9 se non vado bene insomma questi i volontari sono questi ragazzi con i giubbotti i giubbotti i giubbotti catarifrangenti vigili urbani sono i pompieri c'è qualsiasi cosa buongiorno noi siamo di movi radio come va bene tutto a posto tutto bene allora ma voi da qua da che ora siete qui a cominciamo adesso ma voi siete dei antincendio ah quindi pompieri fantastico grande categoria siamo noi siamo tutti con voi lo sapete mestiere difficilissimo è di questi ragazzi perché insomma hanno devono sempre combattere con mille difficoltà e insomma è diventato un mestiere un po complicato e sono coloro che poi in realtà ci risolvono tantissimi problemi quindi dobbiamo sempre stare accanto ai ai pompieri che sono scappati sono scappati vabbè vediamo un po invece qui quattro persone collegate e allora vediamo di capire chi sono questi signori che stanno aspettando buongiorno noi siamo di movi radio punto it una radio vicino al movimento voi da dove arrivate chi vuole parlare Imola siete vicinissimi avete fatto tipo tipo un mezz'ora di strada quasi un'ora e mezza ah un'ora e mezza eh già perché Imola è molto più vicino a Bologna che che a Rimini sì molto più vicino siamo in provincia di Bologna e siamo in Romagna per alcuni per altri no e beh certo perché c'è sempre un po' questa diatriba un po' Emilia un po' Romagna è sempre stata anche se storicamente siamo in Romagna ma non ci cambia assolutamente niente per cui noi andiamo dove ci mettono vabbè che voi siate emiliani o romagnoli avete un carattere fantastico facciamo i cappelletti e non i tortellini esatto ah ecco questa è la differenza questa è la differenza sostanziale tra emiliani e romagnoli com'è mai qui siete attivisti del movimento seguite sì siamo attivisti praticamente tutti quelli qui fuori penso che siano attivisti del movimento e siamo in attesa che aprano i cancelli bene che tutto ciò dovrebbe avvenire verso le nove se non sbaglio vero? sì verso le dalle miglia romagna ma parecchia gente ci sono anche dei pullman che si sono spostati in gruppo per arrivare a partecipare a questo evento che è stato molto interessante avere persone che sono disposte anche a perdere un paio di giorni per venire a partecipare a un evento di importanza diciamo così importanza simbolica a livello nazionale beh direi che negli altri movimenti barra partiti non è così facile girare in mezzo agli stand incontrare parlamentari europarlamentari diciamo che dato che sono di Imola e Imola c'è il festival nazionale dell'unità è difficile trovare più che altro persone che girano per gli stand sta andando abbastanza deserta la manifestazione infatti ho visto che insomma bene o male dai resoconti fotografici che arrivano in rete insomma la partecipazione ormai non è più quella di una volta insomma una volta il famoso PC era tutta un'altra roba il vecchio festival dell'unità locale raccoglieva più adesioni che quello che è il festival nazionale dell'unità quindi sì qualcosa è cambiato va bene insomma abbiamo in parte sostituito quel tipo di elettorato insomma come Movimento 5 Stelle più che l'ideologia più o meno è abbastanza simile noi ci preoccupiamo di applicare quello che promettiamo perché le promesse del PD o PC o più o meno sono sempre state tante tante promesse agli atti alla resa dei conti vale un po' quello che ha detto anche Renzi almeno che ho letto sul giornale quello che diciamo sono promesse elettorali poi quello che facciamo è un'altra cosa invece il Movimento parte dal presupposto che quello che viene promesso sia anche quello che si farà infatti ho sentito che già in televisione comincia a parlare di Luigi Di Maio come capo politico colui che dovrà decidere tutto sul Movimento allora a questo punto non si chiamerebbe più Movimento ma si chiamerebbe PD quindi a questo punto non avrebbe senso nulla di tutto questo grazie allora buona giornata buon divertimento oh abbiamo anche lo staff della sicurezza è qui buongiorno caro no io sono di Movi Radio ah è un fake ciao caro come va benissimo tutto a posto? sì sì sono arrivato stamattina un po' stacco sei stacco ma da dove sei partito? crema eh già è vero giusto che tu sei di crema porca miseria e anch'io sono partito alle tre e mezza figurati eh anch'io uguale beh anche sei arrivato adesso? sì sette sette e mezza ah stavi seguendo la diretta fantastico allora vediamo un po' di messaggi ragazzi giriamo un po' questa camera eccola qua allora ciao grandi DJ ah DJ set Massi ciao Massi buongiorno Antonio Bisogno quando parla l'intervistato si sente poco ah vabbè dai e cercheremo di tenere il microfono un po' più vicino mentre invece quando parlo io così se dovessi parlare così va bene eh datemi una risposta e eventualmente posso alzare eh insomma quindi ci siamo ormai siamo tecnologicamente dotati quindi non abbiamo non abbiamo grossi problemi intanto vi faccio vedere il programma di oggi visto che siamo qua allora questo è il cartello del programma venerdì è quello appena passato oggi convocazione volontaria alle 8 apertura cancelli alle 9 e a dalle 18 inizierà la diretta dal palco ok fantastico ok grandi ciao Mario e ciao Claudio e Asia ah in due ok si sente allora in questo modo si sente bene adesso proverò ad allontanare un pelino il microfono e ad alzare un po' questo marchigegno aspettate un attimo ecco dovrebbe essere tipo così ecco se dovessi tenerlo così come sentite datemi un resoconto così non devo tenerlo appiccicato alla bocca si sente bene? ciao Luca intanto buongiorno Diego eccolo qua 5 stelle fantastico allora bene ok Antonio ok si sente bene quindi io posso tenere anche il microfono leggermente più distante va bene allora vedete qua c'è anche il servizio d'ordine polizia insomma chiaramente loro sono venuti a passarsi un giorno di vacanza perché come al solito quando c'è il movimento 5 stelle che organizza una manifestazione insomma difficilmente succedono delle cose quindi anche dal punto di vista della sicurezza diciamo che facciamo star tranquilla a parecchia gente ma più basso di prima ok comunque si sente? volete che alzo ancora? ciao grazie anche perché insomma questa diretta io la faccio proprio per provare il ritorno microfonico quindi ditemi voi se devo alzare devo abbassare questa sarà la distanza anche perché non posso infilare il microfono in bocca agli intervistati l'audio è perfetto bene grazie grazie ragazzi ottimo ottimo vai bene ok va bene perfetto intanto siete già una quindicina di persone che per essere le nove le nove le otto e trentacinque insomma direi che ci siamo insomma tendiamo oggi a battere il record di ascolti contemporanei non so quanto sia il nostro record però ho visto che già il video che ha postato ieri il nostro grande spirito macchina ovvero unicron e è stato visualizzato da oltre 15.800 persone e quindi ragazzi devo dire che un gran bel risultato insomma poi insomma movi radio comincia ad essere abbastanza conosciuta ecco a parte alcune persone che magari sono nel movimento anche da 3-4 anni e ho parlato prima con alcuni ragazzi di Ferrara che non conoscevano movi radio pur essendo nel movimento da 4 anni e questo è molto grave quindi ragazzi aiutateci a condividere il canale quindi utilizzando un link della nostra pagina facebook piuttosto che il link della nostra pagina della radio ovvero www.moviradio.it chiaramente in questo momento siamo in diretta solo ed esclusivamente su facebook e però insomma vedremo di organizzarsi appena arriverà Leonardo per andare in contemporanea su tutti e due i canali quindi non vi preoccupate insomma o su un canale o sull'altro riuscirete a beccarci insomma quello che è il nostro intento è insomma rendervi partecipi per tutti coloro che non possono partecipare all'evento direttamente quindi non hanno le possibilità non hanno il tempo oppure sono impegnati lavorativamente di seguire in qualche modo quella che è la questa Kermess nazionale che avviene una volta all'anno e quindi questa è la quarta edizione in questo caso dopo Roma dopo Imola dopo Palermo e siamo approdati in quel di Rimini Rimini Fiera quindi se state arrivando non sapete come arrivare l'uscita Rimini Nord quindi cercate di arrivare alla fiera all'ingresso della fiera di Rimini uscendo a Rimini Nord allora siete anzi sei grande no sono no siete tutti voi perché ragazzi allora non potrò essere con voi quindi vedo di farmi vedi di farmi credere di esserlo ah beh certo siamo qui apposta allora vediamo di leggere qualche altro commento precedente buongiorno amici 5 stelle Franco poi Giovanni alza un po' buongiorno dove siete siete di preciso a Rimini esatto siamo al Rimini Park Hotel se non sbaglio si chiama il sito quindi se doveste arrivare o doveste cercare Rimini Park Hotel uscita Rimini Nord non potrò essere con voi ok questo l'abbiamo già letto ciao Mario poi saluto Lello saluto Paolo sei un grande grazie di cuore ma figurati e insomma noi dobbiamo in qualche modo ognuno di ognuno di voi anche chi sta in questo momento ascoltando insomma fa qualcosa per il movimento insomma essere attivisti non vuol dire solo ed esclusivamente stare presso i gazebo informare la gente si fa politica si fa attivismo in qualsiasi momento della nostra vita ecco l'importante è che nelle giuste occasioni si dia il proprio contributo ognuno per quello che può insomma questo è lo spirito per cui è nato il movimento e per cui il movimento va avanti e che ne dicano insomma ormai come avete sentito dai TG dalle trasmissioni nazionali dai giornali insomma ormai ci danno come un normale partito non c'è occasione per non trovare uno spunto di polemica per quanto riguarda il movimento 5 stelle ultimamente ecco le elezioni farlocche del premier Luigi Di Maio il sito che non funziona insomma gli hacker che poi riescono ad entrare nel sito e poi ecco i sindaci che vengono che non fanno nulla vedi la raggi si vede l'appendino ma non si parla mai per esempio di Nogarin che ha salvato forse Livorno dalla bancarotta non si parla l'appendino oltretutto sta facendo un grande lavoro a Torino nonostante tutto nonostante quello che si senta purtroppo il grosso problema del nostro paese è che come abbiamo già denunciato come abbiamo già denunciato un po' di tempo fa gli editori che gestiscono giornali televisioni insomma il caso Rai è un caso a parte chiaramente è un caso politico ma gli editori molto spesso hanno degli interessi sia dal punto di vista politico vedi Repubblica sia dal punto di vista economico finanziario vedi la stampa o il Corriere della Sera insomma stiamo parlando di grandi insomma dove la finanza la politica l'economia insomma vanno sempre un po' a braccetto quindi tutte le direttive che riguardano i servizi giornalistici vengono tutti deviati verso un'informazione che deve in qualche modo deviare l'opinione delle persone e ecco il lavoro del giornalista potrebbe essere il più gran bel lavoro del mondo se i giornalisti fossero deontologicamente corretti purtroppo come sapete anche la categoria dei giornalisti è abbastanza bistrattata ci sono giornalisti molto bravi che vengono pagati dai 3 ai 10 euro a pezzo da editori che non si fanno scrupoli e che impongono la linea editoriale quindi è tutto lì il problema il lavoro del giornalista dovrebbe essere quello di fare in modo esporre dei fatti e fare in modo che il cittadino si faccia un'opinione su quel fatto ascoltando le varie versioni e riportando le varie versioni il problema è che i nostri giornalisti ormai fanno un giornalismo totalmente d'opinione quindi in realtà quello che voi leggete sui giornali non è la notizia ma è l'opinione del giornalista che riporta la notizia la differenza è tutta lì va bene allora ieri sera Paragone è stato unico si me l'hanno detto mi hanno detto che ha fatto un grande spettacolo di informazione e musica e mi hanno detto che è stato molto molto bravo insomma quindi beh oggi insomma adesso io non so non sono al corrente della scaletta insomma aspetto di entrare per arrivare un po' nei pressi almeno dello stand della Lombardia per capire il programma e il programma di uscite insomma tanto comunque oggi staremo insieme praticamente tutto il giorno quindi direi che andremo in giro per i vari per i vari stand a sentire le opinioni della gente parleremo con i parlamentari con i consiglieri parleremo con i se troviamo qualche sindaco parleremo con gli europarlamentari quindi insomma e poi parleremo anche con i semplici attivisti perché bene o male che che ne dicano insomma il Movimento 5 Stelle è comunque sempre una gran bella famiglia insomma dove ognuno veramente dà quello che che può e quello che si si sente di dare va bene allora condividete tutti grazie grazie Paolo poi insomma vediamo se ci sono altri commenti Rimini dove si trova ah Rimini si trova in Emilia Romagna allora praticamente stiamo parlando di un centinaio di chilometri dopo Bologna più o meno e quindi andando verso Ancona quindi diciamo che da Bologna si trova Imola Faenza Cesena dopo Cesena si trova Rimini Nord e quindi che poi l'uscita che ti porta a Bellaria insomma i posti insomma più conosciuti dell'Emilia Romagna bene qui quindi abbiamo anche dato un'indicazione geografica la conversazione iniziata finora 50 commenti molto vero molto bello vabbè e non è ancora successo niente ragazzi e quindi siete qua a guardare il mio bacione vabbè adesso magari per evitarvi questo brutto spettacolo alle 9 del mattino io giro la telecamera insomma vi faccio vedere sta arrivando un po' di gente ecco qua vedete che piano piano la gente comincia ad arrivare è chiaro che da quello che ci hanno detto insomma fino alle 10 del mattino non dovrebbe succedere granché per cui ragazzi se avete domande io sono ah sei di Foggia ecco perché allora Genova c'è molto bene guido lavoratore Cirelli bene a Genova c'è anche Genova insomma la situazione a Genova è un po' un po' così eh anzi come va soprattutto insomma si fa un po' fatica in in quella città come del resto in tante città italiane quello che mi stupisce come mai ieri ho visto un pezzetto del giusto per rendermi conto della tipologia di informazione a livello nazionale ho visto un pezzettino del Tg1 che non ha chiaramente perso l'occasione di criticare la votazione per il candidato premier fatta dal Movimento 5 Stelle insomma come sappiamo tutti il sistema è andato in tilt perché tantissime persone hanno cercato di partecipare online a questa votazione subito dopo è andato in in onda un servizio che è durato circa 10 minuti su Renzi in un teatro in cui ci saranno state forse 200 persone ecco questa è la differenza cioè nel momento in cui loro decidono che vogliono spingere un'idea e fanno in modo di mandare in onda esattamente le parti più critiche riguardo al Movimento quindi Renzi chiaramente parlava dei click sulla rete allora bisognerebbe che qualcuno dicesse a Renzi che forse il sistema che noi stiamo sperimentando ormai da qualche anno con Rousseau dà la possibilità a qualsiasi cittadino iscritto al Movimento 5 Stelle di votare direttamente da casa cioè questo è quello che loro non capiscono il fatto che se uno vuole dare un voto al votare alle primarie del PD deve alzarsi deve uscire deve raggiungere un gazebo deve spendere dei soldi perché comunque deve spendere dei soldi di benzina deve pagarsi i due euro per votare dopodiché può andare a firmare o a votare per le primarie ecco nel Movimento 5 Stelle tutto questo non succede è tutto totalmente gratuito quindi il fatto che siano mille tremila mille cinquecento centottanta duecento persone è il principio stesso della democrazia cioè io devo avere la possibilità e mi deve essere data la possibilità di votare dopodiché se io non voto sono assolutamente responsabile di ciò che sarà l'esito della votazione quindi dovrò adeguarmi a quello che gli altri che hanno invece utilizzato il sistema hanno votato in maggioranza quindi questa è la democrazia e la democrazia dovrebbe essere la stessa seguita dagli altri partiti che ci accusano di poca democrazia interna no? bene insomma gli altri partiti lo sapete è una questione di paravento il fatto delle varie correnti poi in realtà in tutti i partiti c'è una segreteria che decide decide la linea decidono le votazioni decidono le leggi da proporre decidono le leggi da bocciare insomma quindi questo è la differenza va bene grazie buona giornata ciao Enzo ciao Andrea Andrea ma tu non ci sei qui Andrea Prosperi grande grande Andy allora dai vieni su sei già qua o Prosperi Andrea guarda il video sì lo so ti ho visto allora niente dimmi dimmi se sei qui a Rimini oppure se non ce la fai a venire ah anche Roma ciao Mario ah Mario io lo leggo sempre è sempre un po' polemico però mi è molto simpatico allora Roma tra parentesi per quelli che sono di Roma insomma diteci un po' quelli che sono i veri resoconti insomma dagli occhi dei romani insomma se qualcosa sta migliorando se qualcosa è stato fatto insomma se effettivamente si vedono dei miglioramenti allora intanto qua mi si sta scaricando la batteria sì tra poco arrivo ah eccolo ok va bene Andrea ti aspetto allora Mario ci scrive no quindi vuol dire che probabilmente non vede miglioramenti beh magari dipende dalla zona dove abiti dipende dai da quanto ti muovi da casa però insomma quello che mi risulta insomma Virginia Raggi qualcosa dal punto di vista delle strade dei rifacimenti dei manti stradali della delle varie buche il ripristino del di alcuni alcune fermate della metro insomma qualcosa hanno fatto poi insomma staremo a vedere va bene a Filippo Simone guarda il video allora ragazzi io vi chiedo 5 minuti perché devo attaccare il caricabatterie se no vi lascio così senza senza linea e allora ritorniamo qui niente tanto comunque avete visto che ancora non sta succedendo nulla per cui magari approfitto per collegare la mia batteria supplementare che tra parentesi mi ha consigliato proprio un grande amico Andrea che ho comprato che è fantastica ragazzi con quella batteria ricarico il cellulare dieci volte quindi sono molto contento per cui direi ci riaggiorniamo tra qualche tra qualche minuto il tempo di rimettere in carica il telefono e ritorniamo andate su Roma rinasce c'è un elenco di cose fatte grazie Antonio ecco è importante condividere queste informazioni ti saluto da Serra Capriola Foggia ah beh tu devi sapere caro Guido che io sono originario pugliese precisamente di Molfetta provincia di Bari però insomma sono nato a Torino ho vissuto a Torino Genova Imperia insomma ho girato un po' l'Italia e quindi in realtà non ho propriamente un accento pugliese però la Puglia mi è sempre rimasta nel cuore per i miei nonni per i miei parenti più stretti va bene ragazzi ci sentiamo tra cinque minuti saluti da Stoccarda anche in Germania ragazzi fantastico tra parentesi voi a Stoccarda avete le elezioni questo weekend perché se non sbaglio si rinnova il Parlamento ci sono le elezioni per il Parlamento tedesco bene Maurizio Palumbo guarda il video un saluto a Giuseppe Oddo che era lì ah grazie grazie Giuseppe un saluto grandissimo è da tanto che non ci sentiamo anche perché è da tanto che non facevo una diretta però oggi la diretta si preannuncia abbastanza lunga per cui vi prego datemi questi cinque minuti metto in carica il telefono e ritorno da voi ok grazie ragazzi a dopo ciao